Grazie, grazie. Una nuova vita alle donne, a Nicola Tino per Arte e Mestieri, la direttrice di questa scuola importante. Salve a tutti. È un po' strano vedermi in mezzo a questa gente. Sì, però vai che cosa? Chiedevole. Mi sentite? Non sono abituata, io sono molto riservata come persona, però ultimamente mi sto facendo un po' sentire e vedere. Ho imparato a fare questo come donna, cosa che non ho. Sì, è vero, ho portato la scuola Mestieri a Rosolini perché come donna e come voglio proprio sottolineare oggi la determinazione e il desiderio di fare le cose e per come in effetti o qualsiasi donna mette l'impegno, la precisione, l'amore delle cose e dà il massimo rischio per poter poi raggiungere i propri pettini. Bene, io credo che se sono riuscita a farle perché l'ho progettato da tanto e sono riuscita a portarlo. Credo che questo possa dare un aiuto a chi in realtà vorrebbe progettare un progetto di vita lavorativa e che possa Rosolini finalmente portare anche, dare un servizio anche diverso da quello presente sul territorio. Quindi è a questo quello che avrei voluto con la scuola professionale ARS di Rosolini. Quindi grazie per avermi voluto qui e tanti auguri.